L'iniziativa nasce un po' da un incontro con il mio dottor Giacchini lo scorso anno, forse un po' disperato, non riuscivo a trovare il pericolatore, io vedevo un po' la regolazione. Il primo incontro che ho avuto, ho avuto un'impressione più nuovo, non trovavo con chi parlare. Io credo che da quel giorno ci siamo incontrati, abbiamo messo appunto una gala nazionale come nello scorso anno, quest'anno è una scuola e una peluta e il prossimo anno stiamo lavorando e abbiamo ancora di più questo tipo di iniziativa. Per cui non solo a parlo di un approvutore, ha trovato nelle istituzioni locali punti di riferimento sui quali fare una programmazione annuale, questo è un gioco a numeri, dove ci sono numeri e le istituzioni devono essere intelligenti a guardare l'attenzione e a mettere sul campo le proprie possibilità di disponibilità per poter insieme gli eventi.